Questa è proprio neve a manetta, filma, guarda qua, ho questo visuale, ho distratti, ho i manchi curti, filma il gallo in maniche corte e neve fuori, con due gradi che lampeggia, o due gradi, guarda, questo qua è proprio sciuta eh comunque, adesso non attacca perché ci ha bagnato per terra, ma guarda nei pigni nei prati comunque, questo qua è tutto, per me è mazza che porta subito, andiamo qua che ci devo fermare qua, no no, anche i spazzolini non è che ti ha pagato a casa eh, eh però, si è fatta un bel pelo, cacchè, adesso ho con la macchina andrei qua che a mia vita un ferro, questo auto ring, tocca a sua, eh avanti lì, ma si, dai io a lui, vuoi fare la foto? No, non lo sto filmando, no, per il display o non lo sta male, boom, il settello è lì, che è lì che si sta giù, guarda il gallo in maglietta, non pare che pregherica, non sappiamo neanche l'altitudine, ma qua non siamo ancora a mille, questo è un auto grid di merda ragazzi, insomma spaventatevi perché fa cagare, veramente cagare, insomma con tutti quelli che abbiamo passato eh ma una vignetta, la vignetta vedi, la vignetta è qua, prima non ce l'hanno, perché gli altri anni ci fermavamo quelli prima e ci dicevano no no, al confine, al confine, vado qua, vado avanti, vai avanti, vai avanti, dai gallo, una foto in maglietta, maniche corte, sotto la neve, si, 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 subito, vuoi fare un attimo dai? Sacrificati per le foto di quella, giusta causa quella, quella big hand lì, ho tutte le foto sotto la neve adesso eh? appunto in nevata vabbè ma questo ferro frappale è anche il nostro, vede anche il nostro, frapporio a zero frapporio a zero